ciao bentanto sul canale benvenuti a serie car of the day un video al giorno con una macchinina al giorno questa è la settimana dedicata alla lamborghini quest'oggi abbiamo la lamborghini sesto elemento io questa qua non riuscivo a trovarla poi alla fine l'ho trovata ne ho trovata anche più di una fortunatamente l'avevamo vista anche nello speciale lamborghini andate a vedere il video lì abbiamo fatto uno speciale lamborghini andatelo a vedere quindi questa è la sesto elemento andiamo un po a vedere un po che macchinina è tanto questa è uscita nel 2020 quindi se non ce l'avete andate a cercarla che da qualche parte l'ha trovata difficile perché ne sono uscite poche io ho avuto grande difficoltà a trovarla poi fortunatamente ne ho trovate un paio andiamo ad aprirla eccola qua ecco qua la lamborghini sesto elemento eccola che bella ieri abbiamo visto la centenario roll star e oggi una vera lamborghini la vera lamborghini dopo aver visto la urus e l'altra la cinque porte la stock adesso questa qua una vera lamborghini quella per cui noi amiamo questo marchio qua macchine piccole sportive potentissime guardate qualche bella questa qua è bellissima cosa ne dite questa proprio rappresenta la classica e senza lamborghini cosa ne dite sesto elemento è incredibile guardate poi queste colorazioni questo azzurro gabinetto con i cerchi diciamo arancioni l'interno arancione veramente la macchina da gabibo però è una lamborghini lamborghini sono fatte così e sono fatte un po così guardate che c'è i fanali davanti il marchio lamborghini dietro addirittura c'è proprio le prese d'aria presso quelli di del che qua c'è il motore 10 cilindri questo qua 10 cilindri sì il 5.000 10 cilindri che macchina che macchina deve essere una goduria a guidarla non ho mai avuto occasione di guidare quella del vero chissà se prima o poi mi capiterà ad essere veramente una godura perché è una macchina piccolina con tanti cavalli leggera poi guardate che linea che ha una linea veramente un cuneo proprio come diciamo le classiche lamborghini che conosciamo noi che amiamo tanto devono essere così le lamborghini un po pazze un po matte come design però sono bellissime non a caso ha fatto la fortuna proprio da lamborghini e riuscite primi modelli cioè le lamborghini sono tutte belle ce ne sono poche che non possiamo definire belle forse giusto la quattroporte un po particolare ma sono tutte tutte belle una più bella dell'altra cosa si inventano i design lamborghini questo proprio non lo so sono bellissime quindi questa è la lamborghini sesto elemento sesto elemento che è del questa qua vediamo un attimino se ce l'hanno se ce l'hanno 2013 è 2013 come modello è 2013 proposto poi come mattel come hotwills nel 2020 e io questa non la trovavo l'ho diventato matto infatti ero sparso la voce con tutti i miei amici guardate mi hanno dato le foto se per caso andate in un negozio da qualche parte giocate guardate se trovate questa perché non riesco a trovarla poi per fortuna ne ho trovato un paio in due occasioni differenti e meno male che ci sono quei negozi che poi vendono i modelli vecchi diciamo degli anni precedenti perché non hanno forniture nuove quindi sono stati fortunati quindi questa lamborghini sesto elemento qua stiamo arrivando alla fine della settimana domani non perdetevi video di domani che ci sarà un nuovo modello appena appena uscito appena uscito anche questo non lo trovavo sono diventato matto ho fatto un sacco di chilometri in questi giorni e poi alla fine ho trovato sotto casa non vi dico i salti che ho fatto quando lo trovate da finalmente mi stavo già programmando un altro weekend di caccia e invece lo trovate e poi non perdetevi i video di domenica è di domenica che facciamo un nuovo video poi la settimana prossima dedicato alle macchine cabriolet perché è la settimana del ferragosto quindi siamo tutti al caldo belli al caldo a divertirci in vacanza e ci cosa ci vuole che meglio che avere una bella cabriolet per divertirsi niente dai ci vediamo domani con un nuovo video se non avete ancora fatto iscrivetevi al canale lasciate un commento suonate la campanellina ci vediamo domani ciao a tutti ciao ciao iscriviti al canale